Ciao bambini, benvenuti in questo mini tutorial. In questo video costruiremo insieme delle palettine per giocare insieme nella prossima video lezione di storia. Siete pronti? Per prima cosa procuratevi tutti i materiali. Ci serviranno dei fogli bianchi, delle cannucce, io ho usato quelle di carta, una matita, una tazza o un oggetto di forma circolare che ci servirà per fare il cerchio del cartellino, delle forbici, lo scotch e tantissimi colori. Siete pronti? Iniziamo insieme! 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 Iniziamo! Iniziamo insieme! Iniziamo! sono sicura che i vostri saranno molto più belli alla video lezione allora pronti per giocare ciao